Ciao, sono Alberto Campagnaro, insegnante di chitarra e ukulele a Pop Corner. Quando non c'è mi manca molto. Una delle prime cose da imparare quando si suona la chitarra è emettere un bel suono. Come si fa? Appoggiando bene le dita, imparando i rudimenti della tecnica, utilizzando bene la mano destra o con la mano libera oppure con il plettro. Successivamente, una volta che si è imparato a pizzicare le corde nella maniera corretta, possiamo andare a studiare i primi accordi, successivamente gli accordi in barré e sviluppare un bel prontuario di accordi che poi ci andranno bene per molte, molte canzoni. E successivamente un repertorio. Una delle prime cose che chiedo sempre alla prima lezione è di fare una lista dei dieci brani che ti piacerebbe imparare a suonare, in maniera tale da orientare il nostro percorso insieme verso quei brani. Nel caso invece lo studente conoscesse già i rudimenti della tecnica, gli accordi di base e volesse soltanto perfezionare i propri concetti di teoria musicale, di armonia, potremmo puntare ad un repertorio diverso. Posso proporre anch'io dei brani, potremmo scovare quali sono le strutture che stanno dietro alcune canzoni e perché no improvvisando un po' alla volta su alcune scale imparare un po' alla volta a scriverne una anche.